Raccontaci un pochino questo gol perché partiamo da lì, no? È sempre bello segnare e hai calciato veramente una bella posizione. Sì, sono contento per il gol e praticamente ho chiesto ai miei compagni se potevo tirarla, mi hanno detto tira pure. Ti hanno dato l'ok, mi hanno dato l'ok e poi niente, ho battuto bene e ho fatto il gol. Però sei anche uno specialista, insomma, dai. Specialista nel senso che ne hai già fatti i gol su punizione. Sì, qualche ad uno, sì, nei livei nazionali ne avevo fatto un'altra su punizione, poi anche da un po' più, quando ero ancora più piccolo qualche cosa su punizione l'avevo fatto. Speriamo di continuare a fare. C'era tutto a fondo? Sì, c'erano tutti i miei amici di oggi. Cucolo e compagnia? Sì, Cucolo, Briselli, tutti i miei amici di Piana Battola. È dedicato a loro? Sì, anche ai miei genitori, a mia famiglia. Ecco, il mister sta, ne avevamo parlato anche prima, con il mister ti sta dando spazio, no? Stai provando anche l'opportunità di metterci in mostra. Sì, ci sta dando appunto l'opportunità di metterci in mostra e ci dà fiducia. Prova a buttarci nella mischia e vedere cosa succede. Per fortuna fino adesso sta andando bene, sia per tutti noi giovani. Il mister non piace che noi corriamo tanto a secco, preferisce che usiamo molto la palla e corriamo col pallone. Corriamo molto lo stesso e nel frattempo ci divertiamo anche. È proprio un sistema anche di allenamento a cui forse siamo anche poco abituati, anche se in realtà di solito si fa magari un po' di corsa, un po' di pallone. Sì, invece no, il mister piace questo metodo e penso che fino adesso sta dando i propri frutti. Secondo te vedi, vedi che tu sei giovane quindi chiaramente avrei visto l'ambizione, pensi che sia cambiato un qualcosa per i giovani? Sì, perché fino agli altri anni era difficile entrare a far parte della prima squadra passando direttamente dalla primavera. Già l'anno scorso con il mister Mangia ci aveva dato l'opportunità con noi giovani di poter fare gli allenamenti assieme alla prima squadra e adesso il mister Bielica. Anche lui ci dà l'opportunità di allenarsi con i giocatori più esperti per ambientarsi in questa... Anche se lui in realtà ha detto che siete pronti anche per continuare anche durante l'anno e essere parte della prima squadra, qui starà a voi. Sì, sì, ora noi cercare di rimanere qua. Sei di Foglio? Io sì, di Piana Battoglio. Piana Battoglio? Sì. Mi hai della Piana! Sei della Piana Battoglio? Quanti anni hai tu? 17? Sì, ne faccio il 18 novembre. Perfetto, dai. Grazie Simone. Grazie Simone, al prossimo gol. Grazie a tutti.